Anche per le piccole e medie imprese di Sassano sono in arrivo fondi destinati alle aree interne per far fronte all'emergenza economica a frutto del lungo periodo di epidemia da Covid che ha riscritto tutte le regole in materia di lavoro e sicurezza. A pagare il prezzo più alto in tema economico sono proprio le imprese più piccole e che operano nei centri al di sotto dei 5.000 abitanti. Tra i comuni destinatari dei fondi che dovranno ora essere distribuiti alle imprese più colpite e che hanno registrato una perdita di fatturato cospicua a seguito del diffondersi dell'epidemia anche il comune di Sassano che nel triennio di riferimento riceverà in totale circa 170.000 euro. Nel dettaglio l'ente comunale riceverà dal governo 74.000 euro a sostegno delle perdite subite nell'anno 2020 49.350 euro da assegnare alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali per l'anno 2021 e uguale in porto per l'anno 2022. I beneficiari, spiegano dal comune, sono le attività presenti con un'unità operativa ubicata nel territorio comunale ovvero intraprendono nuove attività economiche sempre nel territorio sassanese. Si tratta di fondi che, come previsto dal DPCM del 24 settembre scorso, potranno essere utilizzati al ristoro delle spese di gestione sostenute dalle attività per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali ma anche laddove siano state avviate operazioni di innovazione sui prodotti e sul processo artigianale. Tra le iniziative che possono beneficiare dei fondi anche spese sostenute per l'innovazione tecnologica e l'introduzione della digitalizzazione nei processi di marketing avviando anche iniziative di vendite online. Rientrano inoltre tra le iniziative che possono essere beneficiari dei fondi a sostegno delle attività per le aree interne anche l'acquisto di macchinari, impianti, nuovi arredi, opere murarie per l'installazione dei nuovi macchinari e dei nuovi impianti produttivi. Siamo più che soddisfatti, dichiara il sindaco Domenico Rubino, di poter elargire tali fondi che rappresentano una boccata d'ossigeno soprattutto in questo frangente di crisi dovuta dal periodo pandemico. Per ottenere contributi, gli interessati dovranno presentare apposita istanza da inviare entro non oltre le ore 13 del 17 febbraio prossimo. Tutte le informazioni e gli indirizzi utili sono resi note attraverso apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Sassano.